Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Oggi episodio cazzone, ve lo dico subito e probabilmente anche molto breve. Ho raccolto in questo elenco alcuni degli stereotipi dei runner che secondo me si possono incontrare in gara. Indistintamente su strada che su trail, me ne sono venuti in mente ben 19, personaggi e figure che chiunque abbia indossato almeno una volta in vita sua un pettorale ha trovato sulla propria strada. Ve li racconterò dandogli un nome che ho inventato io e una breve descrizione delle loro peculiarità, dei piccoli affreschi di alcune delle personalità più caratteristiche che popolano le competizioni su strada e su sentiero. Ci tengo a precisare prima che qualcuno mi insulti che si tratta di un giochino, se vi sentite chiamati in causa o se avete la coda di paglia beh ricordatevi che sto scherzando e non voglio assolutamente parlare male di nessuno in questa puntata e come avrete modo di sentire ho volutamente esasperato alcuni aspetti, altrimenti che stereotipi sarebbero. Ed allora subito via alle danze, ecco i miei 19 stereotipi di runner che potreste trovare in gara. Il primo è il vecchietto performante, figura immancabile di ogni gara su strada, local legend per definizione, specialmente nelle 5 e 10 chilometri della zona. In qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione meteorologica corre con gli svolazzini, le scarpe di un marchio fallito nel 1986, la canotta della propria società storica che ormai non esiste più e l'orologio casio con il cronometro, eppure alla fine della fiera ci dà sempre merda in ogni gara. Altro personaggio, il tecnologico. Ha il Garmin che fa anche il caffè, scarpe con piastre in carbonio di ultima generazione, t-shirt traspirante da 125 euro, fascetta elastica o cappellino in testa, fascia cardio costosissima, pod per rilevare le dinamiche di corsa, bio, sensore al braccio e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo non sempre tutto questo si traduce in grandi risultati. Poi c'è il brandizzato, da non confondere con il tecnologico appena menzionato. Il brandizzato si veste interamente Nike o Adidas o Oka o comunque marchi di questo genere da testa a piedi, che quasi qualcuno potrebbe scambiarlo per un atleta elite. Pensate che la sua Miz è così fosforescente che la si può vedere addirittura dallo spazio. Poi c'è l'onnipresente, che si tratti dell'allenamento in compagnia del giovedì, della parkrun, della tapasciata di paese, di una 10 km, della maratona o di un ultratrail, state tranquilli che lui ci sarà. Sarà presente in asti di partenza. È un collezionatore seriale di pettorali e medaglie. Amato e dosannato da tutti per il suo amore incondizionato verso questo sport e per lo spirito con il quale affronta ogni competizione. A seguire il musicofilo. Cuffie bluetooth alle orecchie, musica rigorosamente 180 bpm a tutto volume e via. Ondeggia seguendo il ritmo delle canzoni che ascolta ed è assolutamente impossibile parlarci, perché non sente nulla, neanche lo sparo dello starter. Il trail runner su strada. Se correte una maratona, specie se molto numerosa, lo riconoscete subito, risalta tra gli altri. Ha lo zaino da trail con le borracce piene d'acqua, anche se in questa particolarissima gara hanno piazzati ristori ogni due chilometri. È palesemente fuori contesto e si sente un pesce fuor d'acqua lui per primo. Parte piano e cerca di recuperare ad ogni cavalcavia per poi andare a lamentarsi a fine gara del troppo asfalto affrontato. Altro personaggio, l'urlatore. Figura leggendaria in ogni maratona o trail. In griglia di partenza lo si riconosce immediatamente per qualche battuta o barzelletta sconcia che puntualmente non fa ridere nessuno. Non perde occasione per notare qualche dettaglio che lì per lì sembra insignificante ma lo fa sapere a tutti grazie alle sue doti innate da tenore. A tal proposito è possibile anche sentirlo proprio cantare canzoni nazional popolari, storpiando nel testo e steccando continuamente. Attacca bottone con chiunque gli capiti a tiro, meglio se si tratta di belle ragazze 30 anni più giovani di lui. Il pisciatore seriale. Sente l'ansia da prestazione e quindi lo trovi in coda ad ogni cesso chimico presente nel raggio di 3 chilometri dalla partenza e dall'arrivo. Qualche volta anche durante la gara stessa, seppur lì almeno la coda di solito non ci sia. I migliori, comunque sono quelli che pisciano correndo o camminando durante i trail, un po' come la recente pisciata a volante di Zack Miller a UTMB, come se quei 20 secondi risparmiati li facessero vincere. E poi c'è il falso scarso. Se ci chiacchierate prima della gara vi racconterà che ha una vagonata di problemi. Piccoli infortuni, acciacchi, crampi costanti. Non ha dormito bene, si è scordato le sue scarpe preferite, la sua preparazione ha fatto schifo eccetera eccetera. E poi vince a mani basse la propria categoria senza colpo ferire. Il dispensatore di consigli. In buona parte l'opposto del falso scarso. In griglia, ma anche durante la gara, si vanta della propria esperienza pregressa di gare, di personal best da nazionale, dando consigli sul ritmo da tenere, sull'abbigliamento, sull'alimentazione, sui punti dove spingere maggiormente e quelli dove risparmiare energie, sulle tabelle di allenamento e così via. E poi non si capisce perché arriva sempre tra gli ultimi. Forse proprio perché ha sprecato eccessivamente fiato nel fornire la propria opinione non richiesta. Il disorganizzato. Ce n'è sempre almeno uno in ogni società sportiva che si rispetti. Se vi organizzate per fare una macchinata unica, tutti quanti per andare insieme alla gara, arriverà certamente in ritardo l'appuntamento, scordandosi anche qualcosa. La stampa dell'iscrizione, lo shampoo, le ciabatte per fare la doccia post gara e simili. Non si porta mai i vestiti adatti in caso di maltempo e correrà invariabilmente con la divisa estiva sgualcita in qualsiasi situazione. attenzione che se nella vostra squadra non vi sembra ci sia questa figura, il disorganizzato potreste essere proprio voi. Il rutinatore folle. Questo è l'uomo con la routine pre-gara più lunga e complessa del mondo. Si fa tutti gli esercizi possibili, prima scatti, controscatti, allunghi e una blanda corsetta. Poi entra in griglia e monopolizza le ringhiere laterali, eseguendo ogni posizione per allungare i muscoli conosciuta su questo pianeta, inventandone anche di creative. Gli ultimi secondi prima del via li trascorre saltellando sul posto come uno sesso. Lo sparatore di pose. Lui ha il radar per captare i fotografi anche a centinaia di metri di distanza e come li vede si mette ogni volta in una posizione diversa, assumendo al contempo un'espressione sempre differente, risultando incredibilmente fotogenico in ogni scatto dove viene ritratto. Però poi comunque le foto non le compra, ma le scarica dal sito, in risoluzione infima con sopra il layer di Ndupix e poi le pubblica in modo fiero sui propri social. L'influencer non gli interessa un belino del risultato. L'importante è far sapere al mondo che lui c'era. Corre con lo smartphone perennemente in mano e registra qualsiasi momento della sua esperienza, del pre, del durante, del post gara. Condivide tutto in millemila storie su Instagram che il più delle volte fanno venire il mal di mare a chi le guarda da quanto sono mosse. Il detonato, troppo facile descriverlo, parte regolarmente a bomba, a fuoco, in modo esagerato, per poi scoppiare malamente verso tre quarti di gara. Poi inizia a camminare, accampando scuse puerili, lamentandosi con gli altri runner per qualche problema fisico inesistente. Non impara neanche dei propri errori, lo rifarà puntualmente anche nella prossima gara. A seguire il sorpassatore degli ultimi metri. Immagina questa situazione. Stai per arrivare al traguardo al merdesimo posto, come sempre, però sei da solo, completamente da solo, e già pregusti una bella foto, sorridente sotto il gonfiabile così da poterla sfoggiare sul tuo profilo Facebook. Quando dal nulla si materializza lui, il sorpassatore, che come Pietro Mammo a Sir Zinal con Kilian Giornetti svernicia a due metri dalla linea per arrivare lui merdesimo meno uno, rovinandoti il momento e la foto. Il barefoot. Corre tutta la maratona con le Vibram Five Fingers oppure direttamente scalzo. In tanti lo guardano con sospetto. Qualcuno gli passa il numero del proprio ortopedico, ma lui è super fiero e va orgoglioso del suo stile di corsa e del suo stile di vita. Anzi, ogni sguardo preoccupato per le sue articolazioni lo ringalluzzisce sempre di più. Penultima figura il fissato del GPS. Guarda il passo istantaneo ogni 20 secondi. Ha impostato una sveglia per ogni singola azione da svolgere, compreso il soffiarsi il naso ogni sette minuti. Si accorge di un cartello, quello del nono chilometro, non piazzato esattamente dopo 9000 metri, almeno, così dice il suo GPS, e va a lamentarsi così di un'organizzazione poco precisa. A fine gara il suo sport watch ha segnato 225 metri di lunghezza e ben 27 metri di dislivello in più del previsto e non può assolutamente tollerarlo. Lo dice ad alta voce e lo scrive in un post al vetriolo sui social, dove prenderà like solo da qualche compagno di squadra benvolente, che comunque dovrà assorbirsi lo stesso le sue lagne. Ed ultimo il mangiatore. Parte con 6 barrette, 8 gel, 2 panini col salame, 3 caramelle gommose, una bustina di frutta secca, 2 crostatine e tre litri d'acqua di cui uno con i sali minerali, questo percorrere un trail da 14 chilometri. Non gli importa nulla della prestazione cronometrica, l'importante è godersela e così si ferma ad ogni singolo ristoro, spazzolando ogni cosa li passi a tiro. Ovviamente è in primissima fila per recuperare in vista del pasta party. La sua prossima esperienza, quella dove performerà al meglio, sarà una mangialonga. Ed allora voi in quale categoria vi ritrovate? Io personalmente mi sento un po' a metà tra il fissato della tecnologia e del trail runner su strada, questo ovviamente quando mi capita di correre su sentiero. Ma ci sta che ci siano anche altre figure di questo tipo che a me non siano qua venute in mente. Nel caso scrivetemele, che così andiamo ad integrare questo episodio con i vostri stereotipi. E quindi mi raccomando non prendetevela, oggi ho scherzato ampiamente e se non ve la siete presa potete anche andare in descrizione e fare delle cose. Ce ne sono davvero molte che potete eseguire per aiutarmi. Iscrivervi al canale telegram, seguirmi sui social e strava, acquistare le magliette e tutto il merchandising di da 0 a 42 e tanto altro. E poi per aiutarmi nel promuovere questo tipo di cultura, quello di noi runner tapascioni, sempre nelle note trovate il link per accedere al canale Patreon. Direi che per oggi è davvero tutto. Cari runners, non ve la prendete, si scherza, mi raccomando. Ci sentiamo alla prossima puntata.